Bene ragazzi, allora vi sveglio dove sono, fra un attimo, prima vi dico cosa sono venuto a fare qui. Io sono Dino Spanghero, sono tecnico audioprotesista, lavoro da dieci anni per un'agenda che si chiama con Tonio Udito Tecnologia e che dire, sono qui adesso perché mi hanno invitato per una presentazione di una novità, di una grossa novità della ditta GNR Sound, storica ditta danese e penso che avrete capito da quello che avete alle mie spalle dove sono, sono a Roma e non vedo l'ora di svelarvi qualche novità, qualche segreto di questo nuovo evento. Ci sentiamo dopo.